Ciao ragazzi, benvenuti nel nostro store Sported Football di Milano. Oggi parleremo del Diamond Pack di Adidas. Giriamo la cam e andiamo a vedere insieme i nuovi tre modelli di Adidas. Diamond Pack è l'ultimo pack di Adidas che va in conclusione di questa stagione calcistica. Presenta un Total White su tutti i tre modelli. A livello di tecnologia le scarpe non sono cambiate dai precedenti modelli. La cosa più accattivante di questo pack è la colorazione Total White con le versioni laceless, la parte riflettente su Predator e su Copa e invece sulla X questa parte blu che taglia in due la scarpa. Molto accattivante. Vediamo in questo caso Predator Age Plus. Ricordiamoci Predator scarpa per chi predilige controllo e potenza con calzata medio-larga e con il nuovo collar che permette anche una calzata che ha un collo un po' più alto rispetto al precedente modello. Copa, Tomaia completamente in pelle di canguro. Scarpa che predilige una calzata medio-larga. Molto morbida la sua pelle. Ideale per chi vuole un controllo eccezionale e tocca tanto la palla. X-Speed Flow, come possiamo vedere in queste immagini, è una scarpa non completamente Total White perché c'è la parte centrale in blu che taglia in due il bianco della scarpa. È una scarpa con calzata media per persone che cercano leggerezza e velocità nella tomaia.